Ho raccomandato a tutti di portare un aneddoto, un ricordo, un qualche cosa che fosse e incomincio io con uno che ritengo tipico anche del carattere dei triestini. Molti anni fa mio padre, 87 anni, al 27 e si prepara a uscire di casa. Bora, ghiaccio per terra. Mia moglie lo incontra per le scalizze. Nono, dove sta andando? Vado a ciò la pensione. Ma con sto tempo, se il 27 e vado a ciò la pensione. Vabbè, è andato. Dopo un due ore e mezza ritorna abbastanza arrabbiato. Cosa è successo? Ci è messo tanto tempo? Chiede mia madre quando lo vede. Costa voi. Per strada. Non l'ho fatto che ingrumare stimone dei veci che sbrissava per terra e li dovevo tirar su perché mi dirigeva il ritmo della bora. Io mi ricordo abbastanza recente della via San Francesco dove andavo spesso anche prima dell'esistenza del nostro circolo e scendevo giù, un dato momento mi giro e vedo che un bottino sta arrivando giù per la strada e ho detto qua spaccherà qualche auto e mi sono un po' spostata e venuto direttamente contro una vetrina. Se io non mi fossi spostata sarei sotto il bottino delle immondizie. Io ho un ricordo molto recente, vado a fare volontariato, mi trovo in marina e mi dicono ma cosa vai a far fuori con questo tempo? No, io devo andare. Vado scendo dalla nove lì della pescheria e quasi mi butta per terra e qualcuno ha detto che è umiliante tenersi sul pallo. Fortuna che c'era il pallo tutto lì perché sennò andavo direttamente in mare. Quando avevo dieci anni sono andato nel 42 e eravamo con mio papà mi ha portato quando era a Bora scura nel 54-53 siamo andati a fare il giro della città. Lui diceva per le alte. Andavamo per San Vito, tutta questa zona qua siamo andati in marina dove erano fondate i canottieri e poi duro di freddo ma contento perché ero con mio papà siamo andati in piazza Venezia. A quell'epoca lui era un'ostaria di pescatori, quella volta era tutto ghiacciato, erano tutti i pescatori erano dentro nell'ostaria. Lui ha preso un bicchiere di vino e a me ha detto cinque millimetri di cognac all'uovo. Un bambino che si dava alcolici ma ero talmente intericidio e freddo quasi col dito e succhiavo il cognac all'uovo. Ecco era veramente Bora ma Bora Bora perché mi prendeva e mi teneva. Da notare quando era Bora intorno alla bocca le sciarpe servivano per respirare perché tutti quanti eravamo avvolti con le sciarpe per dare la possibilità di respirare. Ho fatto un esploit quando ero giovane con la mia fidanzata. La Bora soffiava a 130-140 e abbiamo sfidato il Molo Audace e siamo praticamente arrivati fino alla punta del Molo Audace dove si trova la famosa rosa dei venti. Non è di tutti perché a 140 sulla cima del Molo Audace tante volte si vede addirittura mostrano per televisione questa scena tipica di Trieste. I miei ricordi di bambina sono legati alle corde, alle corde che venivano messe negli angoli dove la Bora soffiava più forte e noi ci tenevamo ben stretti. Ma io abitavo in via San Lazzaro e di conseguenza spesso si andava verso via Piazza Vittorio Veneto e con la mamma mi diceva sempre tenti stretta, tenti stretta Lidia sulle corde perché mi sembrava sempre di tenere le mani legate alle corde e le gambe che andavano per conto suo perché ero piccolina e di conseguenza... però è un ricordo che mi è rimasto molto impresso nella mia mente molto... un bel ricordo ecco, sì. Avevo 21 anni e lavoravo a San Marco, dove ho lavorato, dove ho lavorato, perché mi ha detto che devo dire anche in lingua dove ho lavorato per circa 30-35 anni e un giorno la vigilia di Natale proprio, che eravamo andati fuori dalla mensa una persona è passato i cancelli, si è spogliata nudo e ha cominciato a correre su per la strada la barone von Bruch, dove l'entrata del cantiere era quella volta e gridando i molligas, i molligas, i guardiani che era la vigilanza sono corsi dietro e sono spogliati dai cappotti, dai mantelli che avevano e lo hanno coperto e li hanno portato poi venuto alle Crozze Rosse poi abbiamo scoperto che questo era un internato nei campi di concentramento Il mio ricordo di quando era giovane è tutto differente in una giornata di bora sono uscita un bel rifolo mi ha gettato verso un bel ragazzo ed è stato il mio primo amore è vero questa sì tu mare che bora, tu mare che vento, che va di malora, la bora e l'inverno è vero è vero è vero è vero è vero è vero giudizazione